bonsoir c'è nessuno in casa e un po se riesco a mettervi per dritti un attimo aspettate sto combiando di tutto come al solito c'è nessuno siete tutti a guardare il feste di sanremo se volete vi faccio la canzone 2 mi piace 0 3 spettatori adoro jessica ciao micio nero francesca ciao robbie ciao erica ciao mirella ciao carla ciao tutti nero ciao ciao nero ciao alex angelica ciao carla adesso farò casino con la allora che vi raccontate non è che mi abbandonate dopo appena inizia la sigla roba così eh per piacere ah ma cominciamo con le emoji vi tengo compagnia bene dai bene salve Dani tu mi stai abbandonando sì lo so che il lavoro ti chiama sennò come faresti a mantenermi per cui a lavorare ma anche no mirella in che senso se mi abbandonate con la sigla di sanremo vabbè dai ciao robbie buon lavoro comunque dai in questo periodo non lo so io sono cioè non lo guardo da anni sanremo però sono un po affezionata tipo perché ciao Dani grazie per il bella donna ma tabacolor della maison di or cos'è tabacolor è un profumo no e però è un po un po un'istituzione no cioè in questo periodo boh non lo so noi da domani qua entriamo in zona rossa ragazzi in zona rossa quindi è un po come si dice sono un po tristina ma non perché eh ah sai che neanche sapevo che era uscito ciao cristina dovrò non usarlo ma fa parte degli esclusivi oppure è una linea normale commerciale così tanto per e quindi sì non che io prima facessi grandi cose neanche in zona arancione però ciao stefania grazie per il bellissima io ci tengo a portare questa maglia l'ho indossata oggi per andare da mia madre dunque non è che quando andando da mia madre faccia i lavori forzati ah gli esclusivi ok però niente stasera l'ho pucciata nel piatto e quindi è già da lavare buonasera anche a te Valentina grazie di essere qui grazie a tutti ciao Giulia man mano che vi palesate vi saluto niente ragazzi io ho offerto questa live vabbè l'avrei comunque fatta nel senso che stasera c'è vabbè festival di Sanremo a parte c'è il Milan che gioca quindi insomma qualsiasi partita ci sia mio marito se la ciuccia e io rimango sempre così quindi bene o male per passare un'oretta o due in compagnia vi avrei ciao Sonia ciao a tutti vi avrei comunque tenuto compagnia un pochino allora innanzitutto domani vi dico che esce un video abbastanza importante grazie questo è il verde tartaruga un video importante nel senso che è un video in collaborazione con la mia amica Matilda del canale Sinister e quindi se vi va guardatelo perché sarà un video sicuramente carino abbastanza simpatico ciao Federica poi stamattina mi sono svegliata con Roberto con 12b che mi avvisava che ciao Gilda se non vi saluto ragazze perché sto chiacchierando magari la chat scorre veloce e e praticamente Roberto che mi avvisava che i ragazzi le ragazze di Parfumeide avevano fatto una promo cioè così per la festa della donna che dura dal 3 al il 6 di sì ciao ciao Cristina dal 3 all'8 di marzo quindi proprio il giorno della festa della donna con il 50% di sconto su tutto il sito dunque l'altra volta che avevano fatto questo sconto era per il Black Friday e io grazie è stato solo un momento comunque l'altra volta per questioni insomma che succedono un po' a tutti io l'ho diciamo saputo un po' tardi e non ho fatto in tempo a fare un video su Youtube quindi vi avevo avvisato solo su Instagram tanti di voi che poi hanno visto i profumi io ne ho parlato perché ne riparlo un po' spesso mi hanno detto appunto che erano dispiaciute perché si erano perse questa occasione quindi parliamo di Parfumeide parliamo di questo brand italiano favoloso cioè io vi dico che è favoloso chiunque ci si avvicini in qualche modo vendono travel size hanno il discovery kit e è tutto scontato al 50% non è già scontato ma è da scontare alla cassa con il codice F di Firenze di di Domodossola cioè festa donna le iniziali FD 2021 quindi il numero 2021 ecco mettendo questo codice alla cassa viene tutto scontato alla metà del 50% quindi quello che posso dirvi è che già oggi pomeriggio mi hanno detto le ragazze comunque che c'è stato abbastanza l'assalto delle cavallette ciao Muma Parfume Muma Parfume Muma Parfume così si spronuncia aiutami perché io non ce la posso fare anche qui e quindi mi hanno detto già le ragazze che c'è stato proprio l'assalto le cavallette cioè le cavallette sono arrivate come le chiamo io io sì sto cercando di sistemarmi eh tesoro guarda io ti consiglio plumeria rubra adesso ne parlerei eh zona rossa fino adatta da destinarsi chiara non lo so sono un po' preoccupata io adesso perché comunque vedo che in Italia le vaccinazioni stanno andando come me cioè tartarughe però ragazzi non so cosa dire speriamo che di fare presto perché io non vedo l'ora di vaccinarvi c'è un altro complemento dal re l'ho arrivato la gabbia mi manca solo un uccellino e che non avrò perché non l'avevo da piccola un uccellino ma se dovessi averlo adesso un uccellino in gabbia non lo so mi metterebbe tristezza comunque parliamo un po' di profumi parliamo di questi profumi perché io ve ne voglio parlare perché io ne ho diversi ne ho provati diversi vi ho anche detto l'altra volta che se avete delle domande ve lo ribadisco oggi cioè stasera vi ribadisco che se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più in là il mio cuore vagabondo che di regole non ne ha se volete fino al 21 per ora ecco Jessica è più informata di me e se volete vi stavo dicendo appunto e voi avete qualche domanda da farmi su qualcuno dei profumi di Parfumeide anche in privato e io magari ho qua il computer mi ricordo un attimo associo le note al campione che ho sentito vi posso aiutare vi aiuto è chiaro che mi rendo conto che senza sentirli però vi assicuro che questo è un brand veramente di ricerca veramente particolare che fa dei profumi sorprendentissimi io mi partirei subito vi volevo fare vedere quelli della linea Acquorei che sarebbe l'ultima uscita comunque già da qualche mese e questo è Mask Floss o Mousse Floss che è un profumo particolare ho qua aperta la pagina perché così vi dico le note ne fanno molti Gianna o Yana ne fanno molti ma sono molto buoni alcuni di più cioè alcuni più nelle mie corde alcuni meno nel senso che ci sono anche degli ottimi ottimi profumi maschili aggrumati che sono fatti con una raffinatezza cioè sono veramente alcuni da uomo da uomo giacca e cravatta sapete quegli uomini distinti molto molto belli molto fascinosi ecco gra ciao Rossella dunque in Mask Floss o Mousse Floss ciao Elisa abbiamo in testa passiflora fico in foglia foglia di cassisse mandola nel cuore c'è rosa bulgara datura gelsomino sambac eliotropio e cassie nel fondo c'è fico il frutto quindi favatonca ambra e vaniglia questo profumo buonissimo questo profumo buonissimo che ha comunque una partenza secondo me molto verde almeno inizialmente io lo sento per qualche secondo molto verde perché sento tantissimo la foglia di fico però sento pure la mandorla quindi secondo me è un profumo ciao Mac Beauty un profumo strano perché ha questo questo si ha parlato anche Roby di questo si si di molti ha parlato anche Roby Federica infatti vi invito comunque ora sarei arrivata anche lì se volete ancora delle opinioni diverse ambraide dici questo qua ambrosia o ambraide ambraide se volete comunque qualche altra opinione sul tema perché è bello sentire pareri differenti sul canale Roberto ed intorni credo che sia proprio l'ultimo video caricato se non il penultimo no il penultimo parla proprio di parfumeide dunque questo è un muschio particolarissimo come dicevo si apre verde sai che Wild Mimosa Blossom non l'ho assaggiato non l'ho assaggiato nemmeno in sample ma lo sto puntando e secondo me me lo metto nel 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 carrello è ambrosia Alex sì cioè ambrosia di Alex ne parliamo tra un po' non Alex di ambrosia ne parliamo tra un po' cioè non ce la faccio questo come vi dicevo è un profumo particolare perché si apre verde secondo me io sento tanto la foglia di fico sento però anche la mandola però è tutto dolce ciao Monica è tutto molto dolce infatti secondo me quando arriva il cuore di questo profumo qua si addolcisce tutto talmente tanto perché arriva questa mandola secondo me io sento veramente delle note mielate che qui non sono assolutamente la descrizione dice passiflora foglia di fico in apertura mandola e foglia di cassis su un fondo di fico frutto dolce e mielato io sento comunque qualcosa che lega tutto assolutamente sì Federica questo è assolutamente un unisex un unisex ma è un profumo molto molto particolare a me proprio ha un allora ha un sentore leggermente come vi dicevo dolce però secondo me è anche leggermente balsamico è un profumo particolare secondo me il profumo la datura che è un fiore credo che sia un fiore notturno da conferisce a questo profumo proprio un che abbastanza misterioso nonostante sia un profumo che ha questa entrata verde secondo me è proprio non lo so il profumo un profumo da buon umore un profumo veramente particolare questo qui secondo me è uno dei miei preferiti ma adesso vi farò ridere perché dirò così praticamente di tutti e quindi ok si sente questa cioè se voi io sto ispirando forte e oltre a queste note verdi di fico io riesco a sentire questo leggero sentore balsamico però molto dolce molto dolce molto morbido secondo me la parte fruttata dà quella morbidezza in più per non farlo essere il classico profumo che sa magari di foglia di fico barra frutto il frutto che si sente qui nel fondo ciao Valentina è un un frutto molto carnoso proprio succoso cioè il fico è il mio frutto preferito in assoluto in particolare quelli neri io non riesco a smettere di ricordare di pensare all'albero di fichi che da cui mio suocero mi rubava fra virgolette perché si trovava per strada quell'albero i fichi quando erano maturi quelli neri e le scorpacciate che mi facevo io la sera prima di cena quando tornavo dalla spiaggia quando andavo dai miei suoceri ecco questo profumo si fa sempre più rotondo e diventa un profumo che ha una nota una connotazione secondo me anche di pulito molto forte io lo vedo veramente benissimo su una pelle maschile è un profumo originale questo un profumo originale senza essere un profumo però di quelli originali che io ho ancora alcune limitazioni olfattive tu odi il fico di ortigia no questo non c'entra niente quel fico di ortigia proprio niente no quello secondo me è un è un fico d'india non è un fico un frutto succoso mielato dolce quello è proprio un fico d'india il frutto del fico d'india è un po' non è aspro però ha questo sentore leggermente ma non lo so come definire cetrioloso quasi è particolare a me non dispiace il fico di ortigia però è tutto un altro profumo questo per me è stupendo non lo so per me è uno dei più buoni secondo me hanno proprio in pieno allora passiamo all'altro sempre della collezione acquorei questo è un altro capolavoro ecco questo se come me un pochino tanto pochino pochino amate i profumi che sono ozonati e marini questo che è medusa è veramente imperdibile secondo me cioè questo è un profumo dall'evoluzione particolarissima che io ho in questa versione travel size riso è buono riso è buono allora abbiamo in testa aldeia di note marine rosa centifoglia e bergamotto nel cuore c'è note acquatiche rosa bulgara gelsomino e cassis mentre nel fondo abbiamo alga marina ambra grigios sedine e burro di iris ciao questo è il profumo più sorprendente di tutti secondo me perché ha un'evoluzione da credo non lo so avete presente quando allo stadio fanno la ola le curve uguale io ho fatto così quando l'ho sentito perché si apre con un sentore marino quindi un accordo zonato tanto caro al mio naso che io amo molto poi arriva questa rosa molto bella una rosa delicata una rosa molto una rosa rosa perché nella mia testa io distingo molto la rosa rosa dalla rosa bianca dalla rosa rossa questa è una rosa rosa secondo la mia testa per cui c'è questo accordo marino che rimane non se ne va mica rimane lì non è però un accordo marino intenso all'acqua di sale o alla rem per intenderci è un accordo marino delicato quindi un po' così un po' più dietro le quinte però c'è arriva questa rosa che si mescola a questo accordo marino io non avevo mai sentito fino ad ora un profumo che avesse questo accordo cioè accordo marino e rosa cioè non mi era mai capitato e io a dire la verità di profumi marini fra virgolette ne ho sentiti a bizzeffe perché io amando così tanto rem amo anche tanto i profumi marini amando il vecchio rem adesso insomma lasciamo perdere di quello che sa questo è un profumo delizioso perché appunto ha questo accordo marino che si apre arriva la rosa poi come leggiamo ci sono note acquatiche rosa vulgara gensomino e cassis già qui cominciamo a comunque evolvere verso qualcosa di un po' più carnoso e femminile per poi arrivare sul fondo che ancora non è arrivato continuare ad avere queste notte comunque di alghe marine di ambra grigia quindi che ricordano in qualche modo salsedine che ricordano ovviamente in qualche modo un paesaggio o comunque un'atmosfera marina salata e ozonata però c'è il burro d'iris quindi interviene questo burro d'iris che rende tutto un po' più burroso più rotondo più femminile un po' civettuolo quindi non è quel classico profumo solo fresco solo marino solo zonato è un profumo sorprendentissimo cioè se uno se lo spruzza e ci mette il naso sopra lasciandolo lì per qualche minuto togliendolo e rimettendo il naso su il polso si rende conto dell'evoluzione fantastica magnifica che ha questo profumo questo medusa è veramente ottimo infatti vi dico il 50% di sconto è tantissimo ragazzi io vi ripeto non sono qua perché a me non hanno pagato cioè non è che io sto facendo una sorta di esempio vanna marchi una televenta però veramente mi è dispiaciuto tanto l'altra volta perché tanti di voi mi hanno detto nocri io non ho instagram oppure non ti seguivo su instagram non ho visto le stories che avevi fatto e quindi non ho fatto in tempo ad approfittare del 50% tenete presente che di alcuni profumi ci sono anche le travel da 15 ml e anche lì potete fare la metà c'è la metà c'è lo sconto del 50% 50 ml 50% insomma ci sono profumi un po' per tutti i gusti prima comunque avete nominato la mimosa un altro sentore che io sto scoprendo adesso tra l'altro secondo me ovviamente simbolo della primavera il simbolo senza il secondo me della festa della donna quindi potrebbe essere un autoregalo favoloso perché il profumo wild mimosa blossom quello che puntavo io mi sembra costi 75 euro il 50 ml che scontato del 50% vi costa poco più di 35 euro 37 euro credo e credo che sia una cifra assolutamente irrisoria per un profumo di questa cioè diciamo della levatura di cui sono i parfumeide perché io sapete che non ci metto la faccia per dire questo proprio perché ci credo ma se non credete a me da sentire Roberto perché anche lui ha sentito questi profumi e anzi lui oggi se ne è preso uno per cui ci siamo detti tutto e adesso sta cominciando ad ammorbidirsi sempre di più io sento sempre la rosa sento sempre le note marine quindi questa cosa mi piace da impazzire e sento questo burro di iris che arriva che bussa la porticina non diventa un profumo che sa di vecchi rossetti o che sa di non so un sentore insomma un po' vintage però c'è quel tocco morbido quindi questo profumo diventa un profumo morbido un profumo più avvolgente più femminile più delicato più carezzevole no quindi questa medusa anche il nome mi piace tantissimo sapete che ultimamente tra sirene meduse e tritoni vari ho proprio il cervello che è andato altro profumo che io amo alla folie ma c'è ancora qualcuno qui o sto parlando da sola qualcuno si palese mi dica che c'è perché sennò io credo di parlare da sola cosa che sia molto probabile c'è qualcuno e parliamo di ambrosia lo sconto è su tutto Gemma quindi anche su un kit di come si dice penso sul kit di buonanotte dei sample comunque FD quindi festa donna FD 2021 2021 allora ambrosia adesso ce lo spruzziamo intanto ve lo abbiamo foglia di fico e cassis in testa ambra nel cuore e nel fondo abbiamo ambra e favatonca qui abbiamo un accordo classico appunto la foglia di fico io la percepisco anche no praticamente no leggerissimamente la percepisco in apertura forse sì ma proprio è una roba leggera e poi c'è questo bellissimo accordo ambrato secondo me qui ci devono essere 56 note non dichiarate ciao Federica grazie per farmi la segretaria ci devono essere 50 note non dichiarate perché c'è questo bellissimo accordo ambrato molto orientale molto bello dolce quindi questo è un profumo molto molto femminile secondo me anche se come vi dico sempre i profumi in particolare quando parliamo di profumi di questa levatura sono profumi che si adattano benissimo anche alla pelle maschile anche perché cambiano e anche tanto io ho provato mio marito ad esempio ama l'ambra e questo profumo ogni tanto se lo prende come mi ha rubato in Censum e non me l'ha più ridato tant'è che è finito adesso comunque parliamo anche di quello questa è un'ambra molto orientale dolce con questo accordo di quest'ambra resinosa io la sento resinosa quindi sento come se ci fosse qualcosa di un po' appiccicaticcio dolce quasi mielato anche se non c'è il miele ciao Adele è un'ambra molto bella molto particolare molto diversa secondo me dalle solite ambre che si sentono talcata barra ciao Carla non è talcata quest'ambra è dolce molto orientale molto sensuale secondo me molto sensuale anche sulla pelle di un uomo ma deve essere un uomo a cui piacciono i profumi con comunque non è un gourmand quindi non è un diabeticone di quelli da paura però deve essere un uomo che un po' ama i sentori dolci ecco come il mio marito che comunque li apprezza sulla pelle di un uomo è sensualissima ma è veramente molto sensuale anche sulla pelle di una donna io sento quasi come se ci fosse sul ciao come se ci fosse sul fondo qualcosa di incensato però non è a me l'incenso deve essere dosato in un certo modo qui secondo me c'è una sorta di incenso che me lo fa diventare davvero un profumo di non lo so proprio da mille e una notte non so se è squisito una delle più belle ambre che io abbia mai sentito ne ho tre o quattro nella mia testa questa c'è di brutto quindi ambrosia parfum di parfumade un braid sarebbe stato cioè un bel nome però ambrosia è ancora più significativo di quello che è questo questo liquido vedete che è anche questo liquido non proprio chiarissimo dà proprio indice di no è deliziosa questa è deliziosa veramente cioè questa secondo me è imperdibile ripeto 50% di sconto sono comunque profumi con delle altissime concentrazioni di oli tra l'altro sono sono veramente molto persistenti persistenti si proiettano benissimo ovviamente parliamo di profumi che sono tutti con degli intenti molto diversi quindi alcuni sono come muskfloss è diventato buonissimo muskfloss o muskfloss delizioso questo è veramente delizioso questo perché ama sentori leggermente più freschi più comunque davvero notturni perché comunque il mood è quello lì però è un notturno color verde smeraldo di non lo so fresco però comunque dolce e avvolgente non è molto facile ma se non usate questo profumo mi dite hai ragione mentre questo è caldo orientale dolce questo mi fa impazzire io ho poi avuto anche il incensum quindi incensum meriggio che non ho più perché mio marito avevo nella travel così mio marito me l'ha preso e se n'è andato questo è un piccolo capolavoro incensum meriggio che non era esattamente proprio quello che di solito io comprerei nei profumi questo lo sentivo più verso un universo maschile ma abbiamo in testa delle foglie di ribes nero incenso libano incenso rivà e mirra nel cuore c'è mate evicriso italico rosmarino cassi e resine note marine nel fondo alghe marine labdano legno di cedro del libano cedro dell'atlante oak moss sandalo e muschio uno spettacolo quel profumo complesso molto complesso quello che a me ricordava tantissimo era un meraviglioso pezzo di legno in riva al mare mangiato dalla salsedine con questo odore doveva essere un pezzo di legno di una nave comunque di una nave no no ci sono sul sito Adele adesso hanno lo sconto del 50% per questo sto facendo questo video perché l'altra volta l'avevo detto a tutti quanti su instagram ma su youtube non ero riuscita a fare il video comunque ad avvisare e molti ragazzi ci erano rimasti un po' male perché il 50% è molto alto e ci vuole un codice però che è fd2021 se per caso ti dovesse interessare qualcosa comunque hanno anche comunque il sample kit credo sì sicuramente vi dicevo questo pezzo di legno è sicuramente il pezzo di legno di una nave sei entrata più tardi dai non è che non hai capito una mazza sto restando paralizzata io perché ho messo male una gamba aspetta che mi ho brutta la vecchiaia e questo pezzo di legno che faceva parte di una nave però una nave di quelle tipo quelle dei pirati antiche non per forza doveva essere di un pirata quindi c'era questo odore all'interno quasi di polvere da sparo io sentivo me lo ricordo era particolare un odore un po' incensato un odore particolare che però sentivi proprio l'odore del legno quel legno di buona qualità intriso di comunque delle materie delle resine che lo volevano rendere in origine sì sì medusa è buonissimo medusa è particolarissimo però c'è questo odore di mare anche che si sente questo legno incensato questo odore di queste secondo me l'odore incensato veniva da queste resine con cui era stato trattato per renderlo impermeabile inizialmente poi con il tempo era stato eroso dal mare chissà cosa era successo a questa nave per cui era finito dopo mesi di vagabondaggio nell'oceano o non lo so dove in quale mediterraneo in quale bellissimo mare era finito appunto sulla spiaggia lì si era asciugato e il profumo in una giornata non di sole quindi una giornata fresca umida e quindi non c'è niente di caldo in quel profumo profumo molto particolare che mio marito ha amato tantissimo perché davvero questo profumo qui è top medusa crea se non l'hai sentito prima è un profumo buonissimo è molto particolare se ti piace la rosa medusa è veramente molto molto buono medusa evolve in un modo io mi sono quasi commossa ma questo brand è così adesso vi sto per parlare del mio preferito che non ho qua sono orfana perché avevo il sample l'ho finito medusa però evolve benissimo è un marino zonato che diventa un marino con la rosa una rosa rosa per me una rosa bulgara che non so se la rosa bulgara esiste rosa però nella mia testa è rosa e poi comunque diventa rimane sempre zonato però dopo diventa leggermente morbido e burroso perché c'è il burro di iris cioè ciao allora il più gourmand gourmand in sé che ho sentito io è questo ambrosia che è però più orientale il profumo che però e vi consiglio in questo caso in questo caso vi consiglio assolutamente di andare a vedere il video di Roberto perché ce ne sono delle belle stamattina parlavo con la mia amica Michela mi pare che il suo canale si chiamasse little moon faces cioè per caso guarda ti saluto ora non fa video per il momento però mi pare fosse lei guarda Alex per me non rimani delusa perché è buonissimo è buonissimo quel profumo è buonissimo veramente un piccolo capolavoro secondo me e andate a vedere il video di Roberto che vi parla anche lui di questo profumo che si chiama plumeria rubra allora o plameria rubra io penso plumeria comunque la plumeria è un fiore che fa parte non me lo ricordo più di quali dei frangipani forse non lo so me lo sto inventando è lo stesso comunque è un fiore fatto sta che ok è un profumo interamente dedicato a questo fiore quando io ho usato questo profumo e ve l'ho raccontato anche nel video in cui ve lo facevo vedere appunto perché io avevo un sample kit che ho comunque consumato per sentire tutti i vari profumi sono rimasta di stucco perché questo profumo era talmente ben fatto che è come se dall'alto fossero arrivate due mani a me avessero preso per le spalle per il vestito per il bavero della giacca e trasportata direttamente in quella camera da letto così fredda e umida ricordo così fresca non fredda fresca di quella vecchissima casa di campagna di mia nonna dove c'era questo comò gigante dove mia nonna teneva tutte le sue calze velate mia nonna portava ancora i reggi calze quelli con le clip andiamo proprio indietro di tanti anni io ricordo queste cose dove c'erano queste saponette tutte all'interno di delle confezioni di plastica molto belle fatte a rosa alcune erano anche di ceramica c'erano queste saponette che lei comprava in questa piccola negozio dove c'era di tutto dentro dove la titolare era appassionata si faceva arrivare queste saponette dalla Francia e secondo me se le smezzavano e smerciavano tra lei e mia nonna cioè mia nonna si mangiava pane e latte tutti i giorni perché per se stessa ha veramente speso poco la sua vita era una persona un po' diciamo che tendeva a essere molto generosa con me con la mia famiglia però con se stessa non lo era molto quello era l'unico suo sfizio diciamo che si toglieva queste saponette avevano quell'odore ora detto così può sembrare qualche cosa di molto riduttivo anzi può sembrare qualcosa di molto bello ma io che ho sentito il profumo Plumeria Rubra vi posso dire che è molto riduttivo come spiegazione perché in realtà questo profumo aveva l'odore che c'era in quella stanza aveva l'odore leggermente stantio che c'era all'interno di questo cassetto perché il cassetto antico perché il cassetto un po' come prima vi dicevo trattato con cere particolari con io non so se voi conoscete l'odore dei mobili antichi mio marito per molti anni ha restaurato mobili antichi quindi io conosco molto bene l'odore dei mobili antichi perché quando lui aveva in garage il suo piccolo studio io scendevo spesso da lui mentre lavorava e sentivo questo odore questo odore di cere di trattamenti che si davano questi oli particolari l'olio paglierino ecco questi odori mischiati a questo profumo di fiori molto particolare ecco è un odore assolutamente malinconico nostalgico lo stesso modo in cui l'ha descritta Roberto l'altro giorno paragonandolo però a un bicchiere di latte freddo cioè voi provate a pensare io sento una saponetta a stantia cioè non stantia perché così sembra che fa schifo no con quel sentore piccolo sentore stantio lui sentiva un bicchiere di latte freddo però entrambi hanno detto che questo profumo mette una leggera malinconia ma è una malinconia e una nostalgia non triste è una nostalgia e una malinconia dovuta a una commozione che questo profumo provoca io non so perché e stamattina parlavo con questa amica Michela e dicevo con lei ma senti ma ci fai caso che io e lui stiamo dicendo due cose totalmente diverse però diciamo che sarei ti rispondo subito Alex siamo propensi entrambi per dire che sa di latte freddo e sa di saponetta ma entrambi diciamo che è un profumo super nostalgico super commovente è strano è come se avesse il potere di su ogni persona di evocare qualche cosa di differente ma di procurare la stessa emozione è molto difficile da dire Alex per risponderti questo profumo cioè plumeria rubra è il mio preferito del brand parfumeide perché questo profumo pur piacendomi quanto ambrosia che mi fa impazzire che lo indosso sempre però mi provoca uno stato sentimentale uno stato emotivo grazie grazie ciao ciao grazie 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 alla bicicletta ciao mi provoca uno stato emotivo talmente particolare quando io ho sentito a parte che quando Roberto diceva sa di latte freddo cosa dice ma che cosa dice questo ragazzo cioè no no scherzo dicevo ma come fa a sentirci ste cose quando però ha parlato di nostalgia di profumo nostalgico commuovente e sui 300 ho detto no non è possibile abbiamo lo stesso identico sentore quindi per me plumeria rubra è un profumo di parfumede che è un assoluto capolavoro tra l'altro mi raccontava Alba a cui do un enorme bacione che è comunque una delle ragazze di parfumede che c'è una signora che non ricordo da dove viene che si compra confezioni e confezioni di plumeria rubra che è il suo profumo della vita quindi insomma evidentemente qualcosa ha quel profumo dentro cosa ci mettete niente ragazzi io adesso vi ho parlato di 4 o 5 profumi se mi dovessi mettere a parlare di tutti siamo qua fino a domani e quindi però se qualcuna di voi ha qualche domanda su questi profumi cerco di come si dice fare mente locale andare un attimo a vedere e vediamo se mi viene in mente qualcuno mi viene in mente qualcosa da dirvi ecco nel senso che potrevi aiutare più che altro vaneggio vaneggio ragazzi vaneggio io quest'ora vaneggio e niente vi ricordo che comunque il codice è F di Firenze di di Domodossola F di 2021 per lo sconto del 50% la simpatia che io provo per cosa ha venduto il tiare non l'ho mai sentito Giovanna Giovanna scusami no sono italiani Adele non ho capito se stai parlando con me o magari state parlando tra di voi perché mi perdo i commenti sono di Firenze loro sono di Firenze super made in Italy lo sapete che io amo il made in Italy e quando posso super mega extra made in Italy top per me e no quello non l'ho sentito con la fiore di tiare mi piacerebbe sono italiani comunque sono tutti italiani di Firenze quindi ragazze io vi ho avvisato poi c'è il 50% c'è fino a l'8 comunque cioè non vi ricordavo il giorno della settimana che sarebbe stato l'8 a meno che io quello che vi consiglio è di provare qualcosa perché veramente io ho parlato anche vi dicevo tante volte con Alba abbiamo fatto le telefonate lunghissime e io so che le materie prime che utilizzano sono materie prime che non sono solo di ottima qualità hanno anche dietro una ricerca inimmaginabile cioè per trovare quel tipo di materia prima da utilizzare nei loro profumi e questo si sente tutto perché si sente tutto hanno anche una serie di profumi che io ho sentito che ora devo andare a leggere non ricordo i nomi comunque più esferidati più diciamo che ricordano paesaggi comunque più solari più comunque non dico simili a colonie però che ricordano più queste colonie un po' maschili che però sono di un'eleganza impressionante rispetto a le classiche colonie maschili che magari si trovano in giro anche comunque di quelle della profumeria artistica che ce ne sono tanti di profumi di questi molto eleganti che io vedo bene indossati da uomini con la 24 ore in giacca e cravatta ecco questi hanno un fascino assolutamente per me in sì sì anche esatto 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 Federica adesso volevo guardarvi un attimino così per dirvene uh e qua mi casca tutto a me allora abbiamo dei discovery set come vedete confezioni regali a parte che le confezioni ciao che fanno allora verde vetivè è anche buonissimo eh vetivè non vetivè buonissimo anche quello molto fresco la tuberosa non l'ho sentita però io non amo tantissimo la tuberosa quindi ok eh non sono poi abbiamo quelle della linea mediterranea comunque ehm mediterranea chant chant cioè questo mi piaceva tantissimo anche sia mistral secondo me da uomo è spettacolare scirocco ed spero sono tre profumi meravigliosi eh mistral è un profumo ehm che ha delle note marine ma anche mirto bergamotto se non mi ricordo male eh salvia pino marittimo alghe marine lentisco legna ambra grigia muschio e muschio eh quercino questo è un profumo più maschile secondo me eh però anche questo è una specie di diciamo profumo marino ma che ricorda ehm diciamo con un sentore abbastanza aggrumato ma versione colonia no? non so se mi sono spiegata elegantissimo di un'eleganza impressionante se dovete fare un regalo questo è favoloso eh la mimosa che sarebbe comunque il simbolo della festa della donna io non non l'ho sentita e quindi mi dispiace nel senso non vi posso dire se però mi sa che viene a casa con me che me la metto nel carriolino ciao Cristina eh questo e spero è comunque eh ci sono note di bergamotto rum aldeidi e note verdi abbiamo note acquatide acquatide acquatiche eh feio feioa che non so cosa sia pompelmo foglia di violetta salvia sclarea e in fondo c'è burro di iris e muschio questa è buonissima è una sorta di colonia esperidata che però a un certo punto diventa carezzevolissima eh proprio con quella violetta che si sente in maniera molto delicata perché comunque anche qui abbiamo una sorta di sentore stile eh più verso la colonia no? che io comunque io amo tantissimo la colonia le colonie eh e abbiamo anche qui il burro di iris e il muschio quindi questo diventa morbido alla fine è un profumo morbido quindi ce n'è per tutti il gust e anche qui possiamo avere la travel size da 15 ml come vedo qui eh e abbiamo comunque il 100 ml anche vi ricordo che dai prezzi che voi vedete in eh comunque vi compaiono nel sito che è comunque www parfumeide punto it dovete togliere ovviamente il 50% perché è alla letà quindi ditemi un po' cosa fate stasera cosa non fate una stira l'altra stand e ho visto io ragazze cioè sta per andare online non domani ma dopo domani un video dove vi faccio vedere degli acquisti fatti da la saponeria e da risparmio casa che veramente io conosco molto bene quell'odore il tempo libero faceva mercatino antiquariato mobili oggetti eh vedi è un odore tu cucini un pochino hai cucinato un pochino per la settimana cucini Adele che brava che sei guardate cosa mi sono comprata ieri la dea dell'amore oppure cicciolina nei peggiori anni della sua vita vabbè eh cara io lo so che tu vorresti averli tutti perché io sono come te e però cicciolina scaduta ormai però va bene ecco voi la vostra cicciolina esatto no però insomma io vi faccio vedere queste cose qua quando ci sono le occasioni ecco poi però mi è piaciuta troppa sta cosa costava un euro e cinquanto e ho detto no tu devi venire a casa con me perché io devo farci video devo farmi compatire dalla gente che dice ho 44 anni guarda questa come sta ma che defi e poi non è finito qua non so dove è finito l'altro perché cioè l'ho perso già tipo secondo me me l'hanno rubato i cani che sono bruttissime persone non so dove sia che peccato ma era qui bu non saprei c'era un altro con le cornina praticamente c'erano i pua cioè i pua i pompon qua rosa ma non so dove sia finito l'ho comprato ieri l'ho già perso che brutta vita vabbè verrà fuori se non se lo sono magnato che può essere verrà fuori se no me lo andrò a ricomprare anche quello un euro e cinquanta da Teddy questi sono i miei acquisti mi dovevo fermare a prendere delle pile l'altro giorno secondo me ambrose ti piace di sicuro mask floss secondo me non può non piacere non può non piacere perché è troppo particolare ti ripeto non parliamo affatto del fico d'India di Ortigia assolutamente Sanremo Muto ma giusto sono in tema con il festival di Sanremo comunque ragazzi io bisogna vi dico una cosa perché non gliela fo non gliela fo non gliela fo aspettare dopo domani che esce il video perché tanto quel video vi dico che il video che uscirà dopo domani allora domani esce il video collaborazione se sono distribuite a parte la so che hanno una botica a Firenze la loro però non so se hanno delle distribuzioni anche altrove se ce le hanno a Dele avranno uno o due posti al massimo perché è un brand di nicchio la nicchio la nicchio no ma io ti capisco Adela non ti preoccupare se non ti capisco io faccio what e vi dicevo che domani esce questo video in collaborazione con Matilda dopo domani esce questo video di acquisti dove ci sono degli acquisti assolutamente cioè tutte scoperte super scioccanti ma super scioccanti oh i cuccioli damci i bacini da parte mia che sono troppo stasera cioè Marta e Puntini hanno giocato come pazzi sul divano finché erano finiti in tragedia tra un po' si mangiavano a vicenda dopo litigano come i fratellini prima giocano si danno i bacini poi bravo oddio e vi stavo dicendo non ce la faccio aspettare quindi vi devo far vedere una super scoperta ragazze questa volta io ve lo dico proprio apertamente non ci sono ca e mazzi ho scoperto il deodorante per la casa della vita forse insieme a un altro che però vi devo far vedere perché si tratta di una collaborazione nell'altro ma questo l'ho comprato da risparmio casa aspettate un attimo che lo vado a prender cioè vado faccio tre passi e lo prendo lì non c'è l'uccellino allora se qualcuno di voi mi segue anche nei miei video per la casa sa che io prima che mi ferma la circolazione celebrale poi comincio a dire stupilate e e a volte quando stanno muto mi succedono cose strane però Dani preferisco non andare oltre se qualcuno mi segue per gli acquisti casalingui sa che io ho preso una sorta di fissazione da qualche mese per un brand di detersivi per la casa che non costa esattamente pochissimo e non è waxor anche quello waxor è diventato uno dei più sì mi sa che hai capito da quello che vi succede vabbè di sopra di sotto ovunque e comunque le mie live devono finire sempre così non è corretta questa cosa ma proprio non è corretto waxor è uno dei brand che amo da morire però ho scoperto questo brand che io trovo solo da risparmio casa che è una linea che si chiama Deo2 del quale io ho dei prodotti che sono i prodotti della vita cioè tipo l'anticalcare Deo2 che è rosa esatto è così Dani è il canticalcare della vita comunque cosa succede? succede che qualche mese fa io vado a risparmio casa con totale nonchalance oh succede Federica a una certa età poi comunque a un certo punto vado a risparmio casa con totale nonchalance e sprezzo della vita altrui così senza un motivo con il mio carrello vedo una serie di cavallette signore quindi ammassate su tipo dei cartoni che lì da risparmio casa sono un po' così mettono i cartoni pieni di roba e la roba sopra si guarda Dele qua c'è un decadimento totale e c'erano queste signore avvinghiate a questi prodotti che erano il deodorantine Deo2 fatto sta che io aspetto che le cavallette scavallino cioè se ne vadano vado per pigliarne in mano uno praticamente una secondo me lo aveva aperto e non l'aveva richiuso bene mi scivola io riesco a prenderlo ma tosta che però un po' di questo liquido mi cade sulla borsa questo succede quest'estate o alla fine dell'estate questa borsa profuma in un modo indescrivibile per giorni settimane non stiamo scherzando è settimane al che poi io decido vabbè la prossima volta che vado lo compro è mio torno non lo trovo più finalmente rivado e trovo lui che è il deodorante per la casa Deo2 speziato attenzione se io non avessi potuto annusarli o non avessi per caso ma magari questa linea Deo2 lo trovi da altre parti Danie ecco si trovano anche da Mauriz ecco bravissima se non avessi potuto annusarli io non avrei mai comprato questo speziato perché io non è che non ami profumi speziati però per casa preferisco profumi che siano freschi talcati freschi quindi c'è il talque questo profumo è la quinta essenza della meraviglia del profumo di pulito ma al di là della quinta essenza della meraviglia del profumo di pulito ha qualcosa di assolutamente inquietante cioè nel senso ora vi spiego è qualcosa di inquietante ma non sto scherzando nel senso che abbiamo qui ci indica che non sarebbe da spruzzare nell'ambiente quindi perché secondo me forse non ha un erogatore che nebulizza troppo bene forse le goccioline finirebbero per terra ma ci finiscono tutte indica comunque vedete poltrone indica le tende indica l'auto e poi indica di non nebulizzare l'ambiente vabbè qua non so perché ci sia questo naso però praticamente qui ci dice caratteristiche profumature bifase ad azione fissativa la sua caratteristica principale è un doppio strato formato da una fase superiore profumante e da una fase interiore fissativa e neutralizzante che in combinazione garantiscono una lunga persistenza nell'ambiente modalità d'uso agitare bene prima dell'uso nebulizzare su tappeti zerbini tappezzerie negli angoli nascosti e spruzzare sui capi di abbigliamento o superfici plastiche o laccate ah scusate non spruzzare sui capi di abbigliamento o superfici plastiche o laccate per non alterare le stesse per materiali pericolosamente particolarmente delicati scusate non ci vedo particolarmente delicati devono allontanare testare il prodotto sulla parte nascosta non spruzzare su pelle su animali o su capi di abbigliamento allora io vi dico che ho pulito questa stanza pulito l'ho messa a posto ho aspirato per terra passato un po' diciamo il panno per la polvere e ho lavato il pavimento con le finestre aperte ho chiuso ho spruzzato questo qui ora non riuscirò mai a fare quello che devo fare senza fare disastro ma io lo voglio fare lì c'è la prozia Ines come vedete no la prozia Dora è lei non è Ines comunque su quelle tende che spero abbiate visto le vedete state vedendo le tende sono quelle lì ecco ora mi rigiro scusate se vi gira la testa ora la smetto ecco io ancora oggi sono passati tre giorni tre tre io qua dentro non ci cucino non fumo perché non fumo più ma non fumavo neanche prima dentro questa stanza e in casa in generale però io non sempre mi ricordo di chiudere le porte quando cucino quindi stamattina ho fatto il passato di verdure ancora quando io entro nella stanza qua diciamo nel reparto notte sento questo profumo ho dato due spruzzate su una tenda e due sull'altra questo prodotto è la svolta della vita cioè se come me voi avete l'ossessione degli odori in casa questo vi salva la vita ma veramente ve lo giuro non mi è mai successo con nessun altro deodorante per ambienti ha un suo costo perché costa intorno ai 5,99 euro però questo è una cosa incredibile guarda io ho usato di tutto ho usato anche quelli della come si chiamavano quelli oh porca misera adesso mi vengono in mente perché ho la testa sbucata ci ho anche collaborato Santa Rita quelli comunque che avevano tipo diamante ambra cavolo non mi vengono in mente se qualcuno vuoi mi viene in mente di quei quei deodoranti che si usavano anche per spolverare con cui ho collaborato perché mi devono venire ole brava oye ole biola brava vedete la vecchiaia è proprio brutta meno male ci siete voi che mi assistete tipo tante piccole vadanti ecco quelli sono buonissimi potentissimi ma questi non gli portano dietro neanche l'acqua ve lo giuro neanche l'acqua e ho capito perché quel giorno che erano in offerta costavano tipo un euro di meno un euro cinquanta di meno c'erano le cavallette sopra in particolare questa profumazione speziato non vi fate ingannare se non li potete annusare lì non lo so io annunzo poi li richiudo sono molto cattiva e questa in particolare sa di pulito sì 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 Federica ti mangia tutto ti mangia qualsiasi odore perché dovete sapere che questa stanzetta è una stanzetta dove non faccio niente non dormo nemmeno cioè ci giro i video quindi non è che può avere degli odori perché non ci cucino non ci vado in bagno non ci faccio niente però per assurdo è la cameretta che praticamente non lo so è come se per casa gli odori girassero e finissero tutti qua cioè io cucino qualcosa magari di là apro no l'odore se ne va e poi viene qua no sì sì siamo brutte persone Dani snasiamo proprio alla scunnuta come dico io però veramente cioè io questo ve lo dovevo spoilerare per forza però vi dico che quel video è pieno di scoperte shock per me che lì per lì non ho anche quando vi ho fatto vedere questo nel video io ancora non l'avevo provato perché l'ho girato 4-5 giorni fa quel video lì l'ho provato il giorno dopo sono scioccata cioè sono 3 giorni che io sento l'odore ma sento l'odore non è che sento l'odore se ci vado vicino io entro dal reparto notte e sento l'odore tant'è che vorrei andare domani a prendere un altro e lo regalare alla mia migliore amica perché glielo voglio far troppo provare secondo me gli piace troppo tra l'altro video shock gold tra l'altro lo spettacolo è che è proprio per tessuti cioè quindi pensate voi che meraviglia rinfrescare le tende dove ci vanno a fine tutti gli odori vero ecco questo qui se lo trovate vi giuro che mi direte Cristina mi hai salvato la vita ti ringrazio cioè un prodotto così non l'avevo mai trovato io se me lo levano io mi cioè non so mi incateno alla Deo 2 allora io adesso ando di là che mi sono dimenticata di prendere la mia pastiglia della sera devo prendere per forza perché è un salvavita praticamente Carla mi chiede se ci sono dei sample kit però tu stai vedendo il video indietro quindi secondo me quando io ti rispondo tu già avrai o trovato oppure mi odierai perché dici non mi risponde sì guarda questo qui per il camper è top perché tra l'altro io credo credo perché allora io di Deodoranti per casa sono un super maxi expert ma proprio c'è maxi expert pro e ne ho trovati tanti buoni tanti meno buoni tanti ottimi e ho capito che ci sono diverse categorie tra cui due principali che ci sono quelle che a parte i buoni e i cattivi come direbbe Vasco buoni o cattivi non è la fine ci sono comunque quelli che coprono gli odori quindi sanno di pulito sanno di dolce sanno di non lo so cosa e coprono gli odori quindi tu lo spruzzi e se hai cucinato le cipolle fritte non lo so cioè o delle cipolle bollite comunque sanno odore o anche il minestrone sa odore ti coprono l'odore di minestrone ci viene una sorta di mix tra l'odore di pulito e l'odore di minestrone quindi ciaone ce ne sono alcuni che invece si capisce che tendono a cercare di veramente incapsulare gli odori che ci sono in casa e di sostituirli con quelli loro cioè però non sempre riescono perché dipende dagli odori questo ha fatto egregiamente quel lavoro cioè io sono impressionante vi giuro che io penso di andare a prenderne almeno altri due lo regalerò uno a mia madre e uno alla mia amica perché questi sono top cioè anche io le tende sono rosa le mie tende rosa proprio baby non barbie chiaro non cipria ma chiaro non si sono macchiati per niente perché anche quello bisogna guardarlo bisogna stare attenti comunque non vi spoilero alto perché ci sono delle chicche in quel video che poi io vi ho fatto vedere così d'amblè ma sono diventate super chiccone dei giorni a venire perché ho detto no vabbè ho scoperto una cosa della vita non posso più stare senza lo bevo lo bevo quindi domani lo darò ovunque questo ma ragazzi un profumo di pulito mio marito mi diceva mamma Cristina che buon profumo tra l'altro vi dico che questa stanza io la apro non è che non la apro non è che la apro tutti i giorni siccome qua dentro non ci vive nessuno e io non ci entro cioè ci entro ma non ci sto dentro sempre magari oggi ho girato video tutto il pomeriggio per esempio domani metto a posto perché c'ho casino ovunque pulisco e faccio però ci sono giorni in cui io qua dentro ci entro solo per accendere la lavatrice per tirare fuori i panni dell'asciugatrice e per lanciare le ciabatte dentro oppure per venire a prendere le ciabatte e lanciare le scarpe all'uomo nero qua dentro senza accendere neanche la luce per cui non è che apro la finestra tutti i giorni per cui qua dentro le tende io che non le lavo qua dentro saranno due mesi voglio dire lo di più tre secondo me anche una roba tipo così quindi non lo so un prodotto top ti sogni il profumo maghetto minestrone cos'è il maghetto minestrone Federica ti adoro ciao sono il profumo maghetto minestrone però è carina come cosa allora ragazzi da prendere la pastiglia salvavita se no muoio in diretta che mi serve arrivo subito arrivo con l'acqua frizzante così rutto non vi preoccupate ragazzi se passa il fantasma ditemelo che andiamo virali e finalmente faccio i big money big money big money oppa ciao 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 e ma e 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 so qua c'è la fantasmio si non so dove vendano la pasticca in bocca ma uffa non andremo mai virali online totalmente inaccettabile sono piena di pelo qua perché mi hanno aggredita fisicamente quando sono tornata a casa da da fuori stasera i miei due tinicchi piccitti piccitti volevo chiamarlo ma sta dormendo poverino troppo luci tini cosa state facendo voi capodanni io la amo con chi ce l'avete e qua ma io in certi momenti ve ne potrei andare veramente che voi chattate per i fatti vostri non mi proprio cioè mi ignorate totalmente cosa mi raccontate di di bello su raccontatemi qualcosa di utile interessante non scherzo ciao ciao tini io gli do il cibo e tu devi fare quello che dico io tini vieni amore vieni mamma oh dio mio come sei grasso ecco qui ti volevano salutare anche loro vedi no oi si vuoi vomitarmi sulla maglia mi sembra un'ottima un'ottima decisione madonna mia ma tu sei molto duci ma tu sei molto duci che sonno che c'ho non ce la faccio stasera c'ho troppo sonno vuoi tenere la lingua a freno capisco di essere irresistibile ma non ce la faccio a limonare stasera ciao patti tesoro di noi hai un alito che non ce la faccio no la mamma scherzava non ti offendere amore mio la mamma scherzava io e io e io io e io e io quando sei buono amore mio abbiamo due positivi a lavoro se sono positivi anche al molecolare azienda sanifica eh beh ecco il sonno che c'ho questo bimbo qui c'ha un po' di sonno Sintra puntino vieni a mamma guarda vieni bevi un po' di Deodue bevi madonna quanto lo amo guarda che duci ti hai veramente conto che si sta addormentando io gli gratto qui che non ci arriva lui oh che sonno non ce la faccio più mi si chiudono gli occhi che distruzione terribile sì anche qui ci sono tutti i prodotti Deodue c'è Daniela grazie gentilissima ci sono quelli per lavatrice lavastovie ci sono anche ho visto gli ammorbidenti poi ne arrivano sempre di nuovi eh eh vabbè il deodorante poi ci sono l'anticalcare lo sgrassatore eh quello per i vetri eh tipo vetrille insomma dolcissimo è un maschietto si chiama puntino tini bevi un altro po' di Deodue mo c'è si è un cane molto duci sapete cosa potete fare ragazze aspettate un attimo aspettate un attimo che vi voglio aiutare allora questo è prodotto da Kimi Clean group se ne è andato perché ha sonno Kimi Clean group allora riesci a mettere a fuoco? no allora info avete da scrivere? hm? chi non ha? proverò tini? allora info Kimi cioè c h i m i clan punto i t cioè info chiocciola Kimi Clean punto i t Kimi Clean è scritto qua può essere che se voi scrivete made in italy quindi top sapete che io quando c'è il made in italy mi vado tutta in un brodo di giuzzole perché mi piacciono tanto le cose made in italy quindi scrivete una mail a info chiocciola Kimi Clean punto i t e chiedete una lista di rivenditori magari ce l'ha la signora con la bottega sotto casa vostra e non lo sapete perché diciamo che queste aziende distribuiscono in maniera strana magari hanno il risparmio casa poi hanno i mauris però hanno anche la bottega della signora Pina in via cioè quindi capito potete magari fare secondo me io farei così ecco di solito quando cerco qualcosa io cerco di andare alla fonte meglio di loro non ve lo può dire nessuno dove sono distribuiti magari cercate di dire abito non so in Piemonte in provincia di Torino a nel tal posto a Rivoli vicino Torino dove posso andare per prendere i vostri prodotti schizzo forse hanno anche un'altra diciamo un'altra questa linea infatti c'è scritto linea de o due forse l'altra è linea schizzo amazon sono un genio ragazzi ora faccio un rutto liberatore della felicità sono troppo simpi mi raccomando non ve ne pentirete diventerete matte matte vorrete solo lui amazon ce l'ha sono un conto quanto costa su amazon per curiosità io lo pago 5 euro 99 e sto con anche il naso molto innervosita no però li vale tutti varrebbe anche 10 euro ma pure 15 cioè con quello che mi ha fatto in questa stanza io sono rimasta traumatizzata traumatizzata perché sono tre giorni che c'è questo odore eh lo so mi dispiace ci sono anche le gocce per il bucato ecco io quelle non le ho viste li vale tutti però beh comunque io fossi in voi non mi fermerai ad amazon mandate una mail mandate una mail magari veramente vi dicono che ci sono veramente dal negozio di qualche negozio esattico cinese nella vostra zona di quelli grossi chiediamo roberto e dintorni che cosa ah per amazon c'è anche erotiche oddio che cos'è erotiche lo voglio cos'è mamma che vuole ragazze ambrosia top super top io ve lo dico non vi lasciate sfuggire questi profumi perché ci sono qualche cosa di meraviglioso 50% di sconto e via chi è entrato adesso ho fatto vedere i profumi di parfumeide all'inizio si fruttano perché vabbè eh sono quei due Elisa che non ho sentito sono quei due che si fanno ma mi compro stasera io sì perché ti aree mi piace sono gli unici due allora loro hanno tantissime referenze mi hanno mandato tantissimi campioni anche di quelli di casa nel senso perché hanno anche i Deo Ambiente e vi consiglio tantissimo i loro deodoranti a bastoncino io ho provato quello Vinsanto super top va profumato tutta la stanza di là e sono 30 metri quadri ovviamente se cucini fai eccetera eccetera deve andare via l'odore poi giuro hanno ragione tre giorni di persistenza garantita questo è il quarto io ancora lo sento sono andata di là prima a prendere l'acqua a prendere la pastiglia sono tornata è così è un po' più costa più del doppio quindi Federica perché non mandi una bella mela Deo Due qua alla Kimi Clean Professional e chiedi perché secondo me l'azienda è di Modica si fanno anche il cioccolato quindi Modica non è in Sicilia si è vero no dove è Modica è in Sicilia o no ma aiutatemi si deve essere in Sicilia Modica che bello buonissimo e per chi è entrato adesso vi stavo dicendo che vi ho fatto vedere i profumi di Parfumeide che sono scontabili al 50% fino all'8 marzo quindi se siete entrate qui leggendo il titolaus e citandovi sotto sotto si dove fanno il cioccolato però io ormai dopo penso solo a mangiare non so neanche più dove mi trovo e quindi si bella Modica Carmela si è vero Carmela che bello sono scontabile il 50% vi stavo dicendo con il codice S anzi FD scusate FD esistono anche le gocce per il bucato FD 2021 comunque le gocce per il bucato io non le ho viste lì credo no perché le guardo sempre perché hanno delle marche strane anche lì però una volta ho provato a prenderne una e schifo totale e Adele sei qui guarda ho fatto le unghie con l'acrigel perché mi sono arrivate le tip da Aliexpress sono dritte drittissime super dritte di più queste sono le unghie più storte che io ho in vita mia sono drittissime pure troppo quindi ti mando il link poi su Messenger se lo vuoi e mi sono arrivate in frettissima perché mi sono tipo arrivate in secondo me due settimane venti giorni cosa che mi aveva detto che mi arrivavano tipo dopo due mesi poi ti mando il link che sono poi tipo le stesse che si vendono pure su Amazon le ho viste che ti arrivano però subito ma costano di più queste qui alla fine la scatolina con tutta la spedizione con le solite boh saranno 500 credo le ho pagate tipo 10 euro 9 euro è qualcosa non costano proprio niente che se uno dice compri su Aliexpress le pago 1 euro però sono buone sono buone perché sono proprio dritte anzi se le faccio pure vedere la mia povera schiena va dai sta per fare un disastro mai visto ma non l'ho fatto la scatolina è così vabbè classica scatolina da 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 Nile Form e le Nile sono così vi faccio vedere questa che è grossina volevo metterle bene perché se mi cadono c'è una tragedia guarda cristiana ti seguo da poco ma a causa tua sto diventando povera ho appena acquistato Medusa e incenso omeriggio un saluto da Ferrara non te ne pentirai cristiana veramente sono così a Dele guarda perché se no te le copro con vedi come sono dritte hanno vabbè i segni perché a quanto vuoi stare alta tu alcune ce le hanno alcune no cioè nel senso alcune però sono così e sono proprio le Nile le Nile Form che si mettono si levano questo è il numero 2 oh Jordi 76 79 cosa è quel coso che gira perché mi piace amanti dell'Ambra Ambrosia perché viene a casa con voi mamma mia quanto mi piace Ambra sì sì guarda che bella C che hanno ora le unghie sono fatte da cavolo lascia stare perché le ho fatte ieri di fretta volevo provarle subito sono arrivate tra un po' butto per tra l'altro una qua mi si sta anche rompendo perché le ho fatte male quindi le devo sistemare però non importa poi le metto a posto le devo anche un po' accorciare però sono proprio dritte quindi ho trovato la pace dei sensi adesso perché se no prima ti ispira è corce è corse aspetta che ci guardiamo se mi viene in mente se è qualcuno che io ho avuto in sample perché come vi dicevo prima mi hanno mandato tanti sample fra casa e persona però non mi avevano mandato proprio tutto tutto cioè anche per questioni comunque che magari si erano un po' dimenticati perché mi hanno amato due volte tra l'altro cioè quindi allora ora lo devo trovare che vediamo se pam 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 plummeria rubra ti amo tabac queer and chance queer anche questi devono essere buonissimi ormai sono 80 minuti di live voi non mi sopporterete più proprio più avete anche ragione eccolo ce la farò non ce la farò allora questo qua ha bergamotto peperosa si questo è comunque un profumo di quelli che ti dicevo prima sono quei profumi un po' esperidati che a me ricordano comunque i profumi leggermente maschili anche se stanno benissimo anche sulle pelli femminili però sono proprio quei tipi di profumi era quella serie lì di quelli che vi ho detto prima buonissimo anche questo come vedete usano spesso comunque insieme a delle note frizzanti ciao Lucia frizzanti comunque peperosa bergamotto pompelmo savia usano per esempio la violetta l'ambra grigia i legni questo è un profumo buono perché secondo me mi ricordo che aveva questi legni nella base che comunque lo rendevano un po' diverso dagli altri che vi dicevo prima che somigliavano comunque a delle colonie elegantissime questo secondo me era più leggermente più profondo più non più oscuro più profondo quindi questo come mi era piaciuto molto però sì anche questo secondo me è un po' una tipologia di profumi più verso il maschile ecco per come li percepisco io sì sono super dritta Valentina finalmente super drittissime anche perché guarda adesso tu le vedi così però adesso cominceranno a crescere le mie e cioè se no veramente ogni due mesi devo non devo fare il refill che è normale ma devo ricostruire anche champagne Narcissus 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 quello non l'ho sentito quello per esempio non l'ho sentito perché ne hanno veramente tanti cade ragazze mie alchemic collection dovrebbero essere quelle quelle comunque della linea perché comunque vi ricordo anche oltretutto che hanno delle saponette se come me siete appassionati di saponi profumati a proposito hanno delle bellissime saponette profumate fantastiche confezionate in modo meraviglioso e se voi guardate vi sto facendo vedere adesso che ci sono delle confezioni regalo bellissime adesso vi faccio vedere per esempio questo qua sul rosa che costa 45 euro ma vi ricordo che è da scontare alla metà è una confezione regalo contenente il profumo di parfumeide frangipani etiarè e il sapone solido di plumeria rubra che io ho ed è ciao ed un sapone solido profumato plumeria rubra cuore quindi insomma ci sono tristi saponette profumate a 15 euro i saponi per le mani ci sono diverse cose oltre ai profumi da poter guardare cosa che io insomma penso che farò perché ragazzi uno sconto di 50 a parte che vi dico io non ho mai loro quando fanno gli sconti li fanno cioè non è che stanno li fanno il 20% il 10% il 50% ciao cioè saponi profumati saponi liquidi già l'igenizzante confezioni regalo sì 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 adoro adoro adorissimo e niente ragazzi io ho puntato a proposito tanto per gradirci moltissimo il profumo frangipani e tiaree come dicevo perché anche il colore c'è questo è un profumo intenso delle note floreali e cipriate abbiamo note acquatiche frangipani latte di cocco e nel cuore c'è tiaree frangipani cocco nel fondo iris fiorentina note cipriate vaniglia di tahiti ecco io amo tantissimo il tiaree il frangipani questi profumi così un po' orientali però odio sul genere celeste no non hanno dei cosi così secondo me forse il più dolce è quello che sto dicendo adesso cioè quello al tiaree perché mi piacciono tanto i profumi al tiaree però mi hanno stancato i soliti accordi mi piacerebbe tanto che mi stupissero come mi hanno stupito con il profumo medusa che per me è un marino assolutamente innovativo c'è uno schiaffo a tutto il resto e quindi insomma penso che questo qua verrà a casa con me perché questo iris fiorentino note cipriate vaniglia di tahiti nel fondo mi fa pensare che questo profumo io lo amo stavo di nuovo per rottare in diretta ma perché perché non chiudo il canale stasera molto bene allora ragazzi adesso vi saluto perché ormai sono quasi 90 minuti di live e penso di avervi fracassato le ovaie sì quel marino è bellissimo ti di piacere anche la rosa però perché si sente la rosa però mescolata a quel burro di iris e all'accordo marino secondo me è buonissima quindi io adesso vi saluto vi ringrazio tantissimo perché siete state veramente carine stasera è stata una live molto divertente almeno per me perché spero di avervi fatto vedere qualcosa di carino anche il deo casa queste cose qui io appena la live si renderizza che la rendo pubblica vi metto il sito il link al sito di parfumeide vi metto il codice sconto e vi ricordo che gli sconti sono fino all'otto di marzo io non dite che non ve l'ho detto questa volta che poi io ci rimango male quando voi ci rimanete male perché magari mi dite cavoli io non lo sapevo che c'era questo sconto e volevo provare il tal profumo e l'ho pigliato quindi approfittatemi io penso che adesso stasera non lo so perché sono veramente cotta cotta but domani mi sa che un po' di shopping selvatico lo fo almeno a travel di frangipani e ti are me la succio perché mi piace va bene ragazze allora io vi saluto adesso vi ringrazio ci vediamo nel prossimo giro con un altro giro di follia ciao ciao